Vai dritto e passa sotto al punta del plasson. Via via! Scappa! Scappa Fahid! Via via via! Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, dammi le mani. D'accordo. Perché corri, Fahid? Uno non ha neppure il diritto di correre. Li chiamiamo tutti fermi e basta. Perfetto, ora puoi passare la notte in centrale. Bene, io torno a casa, Fahid.